buonasera a tutti amici sportlan channel siamo qua oggi mercoledì 10 luglio per la finale per il torneo di chiusura del milano solidale quarta edizione 2013 siamo qua con i due capitani che tra poco disputeranno la partita per il terzo quarto posto abbiamo huawei e sky sono qua con il capitano ivan canoro ciao ciao e con davide delle donne di sky ciao ivan parto da te allora emozioni in questo momento per per questa parte tante tante al di là della partita in sé tanta emozione per tutto il torneo e sarà una bella partita ci divertiremo dopodiché non ci dimentichiamo comunque dei bambini che credo sia la cosa più bella di questo apposta che stanno guardando infatti quindi direi che un applauso soprattutto a loro ci divertiremo comunque anche perché io li sto intervistando ma dietro di noi ci sono i premi ci sono le coppe ma ci sono anche i premi che gli stessi bambini hanno realizzato per voi e quindi vi aspetteremo poi alle 10 per la premiazione davide dimmi qualcosa come sei pronto sei vi siete preparati prima per questa per questa partita preparati prima direi di no siamo degli sciammannati che sono arrivati adesso praticamente vabbè però come quarto anno di fila quarto anno terzo e quarto posto vediamo come andrà sei tu che coordini un po la tua squadra essendo appunto il capitano ma più o meno però abbiamo anche il mister che ha fatto molto la sua parte dai io devo dire anche Cristina Fensi che ci ha sempre aiutato e supportato per le distinte per seguire tutte le parti diciamo burocratiche di questo torneo sempre stata presente in tutto Cristina sempre presente Alberto Ganda che ci ha fatto un sacco di foto è sempre venuto anche lui perfetto ragazzi vi saluto e vi faccio un in bocca al lupo per questa partita grande Sky e grande Huawei ciao